Buonasera a tutti voi convenuti questa sera nell'auditorium del Castello di Mesagne, benvenuti a Mesagne per i tanti che sono venuti da fuori per la presentazione di questo libro davvero particolare, un ambiente scelto in maniera non casuale perché in questi anni si è imposto come il salotto di Mesagne e delle iniziative che vanno ad essere affrontate. Questa sera più che mai questo contenitore diventa eccezionalmente possibile per l'evento di questa sera perché si tratta di un recupero storico, un recupero storico particolare che abbraccia un arco di tempo che va da fine 800 agli anni 50 e va a colmare un vuoto non solo negli studi molto importante per la nostra città. Ci hanno pensato due professori molto noti nella nostra città, il professor Damiano Franco e il professor Enzo Poci che hanno recuperato fonti di archivio, commenti storici da tante delle nostre famiglie, alcune delle quali in sala, e hanno messo su carta in questo elaborato. Ecco perché un grazie va a tutti coloro che hanno creduto a questo progetto, alcuni di loro sono presenti oggi, questa sera in sala, alcuni di loro non sono presenti questa sera, ma anche a loro, a tutti coloro che hanno dimostrato stima, affetto e incoraggiamento per questo lavoro va il ringraziamento degli autori. Non possiamo iniziare la serata prima di avere il saluto iniziale da parte del sindaco della città, Franco Scoditti, che accogliamo con un applauso. Grazie. Grazie.